Buonasera, il nostro ospite di oggi è Simone Giusti, vescovo di Livorno a quasi 62 anni è sacerdote da 34 e da quasi 10 anni è vescovo, prima del seminario ha studiato anche da architetto, si è laureato nel 79 dopo alcuni incarichi nella diocesi di Pisa e anche importanti a livello nazionale è tornato nella sua cittadina a Cascine di Buti a fare il parroco aveva 40 anni, è anche giornalista, si è occupato molto di azione cattolica, di seminari e soprattutto di catechesi benvenuto naturalmente nel nostro studio, com'è nata la sua vocazione, la sua scelta di fare il prete? Sono stati determinanti alcune esperienze che ho fatte a Spello, a Spello vicino a Sisi erano gli anni di Carlo Carretto, di Sor Madeleine, delle piccoli fratelli di Chadefoucault andai con un amico caro a un convegno su marzismo e cristianesimo con Roger Garudì, padre Ernesto Balducci e dopo aver partecipato a questo convegno a Sisi alla Procivitate e poi andammo a Spello e lì era un'esperienza che stava nascendo, era un'esperienza di preghiera e lavoro è un'esperienza che questa, che mi ha segnato profondamente perché mi ha fatto fare un salto di maturità nell'esperienza di fede cosa l'hanno detto i suoi amici, i suoi genitori quando ha comunicato questa scelta, una sorta di folgorazione? mio padre mi disse, ma davvero vai in seminario? dice perché? sì e un ci va in missione, un va in Brasile e in Africa avevano talmente paura, i miei genitori, che io andassi all'estero che quando gli disse che entravo in seminario a Pisa me lo fecero giurare giura e vai a Pisa perché così sei vicino era un ragazzo speciale a scuola quando era piccolo? ma sono sempre andato abbastanza bene perché mi è sempre garbato studiare in quali materie soprattutto? matematica, matematica è sempre stata la mia, il mio forte, disegno e matematica a Messa andava sempre? sì, sempre, anche perché ho fatto il cherichetto fin da bimbetto e quindi c'era questa abitudine, però mi garbava anche da giocare a biliardo e in seconda media mi alternavo fra il biliardo all'asa del popolo e poi invece la Messa la domenica e poi per fortuna c'è stata una suora che ha messo su un bel gruppo giovanile e mi ha fatto fare un bel cammino architetto, ma non le piaceva restare a fare quello? di sicuro, dice fatto sta che poi il Bodiamo ha fatto fare anche l'architetto io credevo entrando in seminario di dover lasciare l'architettura e invece ho dovuto subito appena entrato in seminario ho avuto le prime commissioni di fare chiese la prima chiesa che ho fatto è stata quella della Sacra Famiglia Pisa e poi la chiesa alla Mazzanta lì a Vada ora la vediamo prima però c'è una foto di lei che parla con il Papa qui era già architetto, comunque si stava laureando non era ancora sacerdote? vediamo la foto arriva subito eccola qua ecco sì, qui mi era appena laureato ero responsabile di giovani dell'azione cattolica della diocesi di Pisa era andato, era il mille, settembre 1979 sono a Castel Gandolfo con Giovanni Paolo II che è Papa da nemmeno un anno e gli ho raccontato l'esperienza di giovani di azione cattolica a Pisa e il Papa mi chiese ma lei ora che ha finito l'università che farà? e gli disse entro al seminario e il Papa parlando col segretario mi disse l'avevo capito da come parlava c'è anche la Chiesa della Mazzanta che è un suo progetto? sì, quello fu fatto nell'81 ero ancora in seminario e in seminario facevo il seminarista disegnavo, progettavo, andavo a fare direttore dei lavori e ne ho fatte sempre tante insieme cosa le è rimasto di quella professione? tantissimo, tuttora progetto la chiesa che viene costruita qui a Livorno lì a Salviano, al Borgo Magrignano l'ho ispirata, l'ho seguita l'ho suggerita anche se ovviamente ora non posso più stare sul cantiere come una volta un giovane che ci segue cosa vorrebbe spingere a fare il prete? la bellezza dello stare in un servizio a Dio e ai fratelli penso che perché è tutto un servizio d'amore chi è il buon Dio? è la pienezza dell'amore e i fratelli, persone la volergli bene uno si immagina semplice ma è solo il prete, solo io ho bisogno in momenti di solitudine perché sono sempre in mezzo alla gente e un trovo un attimo di respiro torneremo a parlare di questi argomenti legati più alla vita della Chiesa un po' più avanti voglio parlare di politica in qualche modo perché c'è qualcuno che dice che fin dal suo ingresso a Livorno dovrebbe esserci anche una foto su questo dice che si occupa troppo di politica non è che si sente magari un politico mancato? no assolutamente perché per la politica vuol dire il bene della città polis, il governo della città certamente non sta a me entrare nelle questioni strettamente amministrative però sta alla Chiesa c'è una dottrina sociale e su tutto questo parlare delle questioni sociali la Chiesa è stata rimproverata nell'Ottocento per non aver affrontato le questioni strutturali della povertà il Santo Padre Papa Francesco cosa ha chiesto all'azione cattolica? di fare politica con la P maiuscola e ci arriviamo ecco quando è entrato a Livorno quando le hanno comunicato la destinazione di Livorno cosa ha provato? è sorpresa per un pisano venire a Livorno è stato indubbiamente conoscevo la realtà livornese conoscevo la realtà livornese perché Sol Gabriella dell'ufficio catechistico ed altri mi avevano invitato tante volte a parlare qui a Livorno conoscevo ci sarei incontrati anche lei non si ricorderà ma quando la radio era in Vescovado io sono stato Radio Livorno città aperto a una trasmissione mi invitò allora perché mi occupavo ci ritroviamo dopo tanti anni e qualche capello bianco in più senta ogni tanto salta fuori che lei vuole anche fare il suo partito è solo una fantasia giornalista questa è proprio una fantasia ci sono talmente tante ma poi la Chiesa non si schiera con nessuno se non con i poveri ma cosa di cosa mi occupo io mi occupo di diritti biblici quali diritti biblici? al lavoro e alla casa al Vescovo sta a ricordare quella che è la legge di Dio ovvero che ognuno ha diritto a casa e lavoro all'amministratore provvedere si arrabbia spesso con i politici locali non mi arrabbio mai però gli richiama la loro responsabilità chi è che ha 6.000 appartamenti da gestire? la Curia? magari io invito tutti andare al Catasto e vedere quali sono le proprietà della Curia e vedere quali sono gli immobili sfitti della Curia se ci sono me lo diano anche a me che l'affitto li metto subito per l'emergenza abitativa anzi sto proprio studiando come fare una piccola ristrutturazione per liberare un nuovo immobile e fare un altro appartamentino sto liberando alcuni immobili alcuni appartamenti grandi che erano affitti per dividerli in due e poi consegnarli alla Caritas la disposizione che ha l'economo della diocese è che come si libera un immobile lo diamo subito alla fondazione Caritas per l'emergenza abitativa o comunque per problemi di povertà si era liberato un immobile vicino alla Seton stanno aumentando purtroppo zona ospedale stanno aumentando molto le persone che vengano a Livorno per farsi curare c'è bisogno di ospitare i familiari ho consegnato non più tardi di un mese fa ai parroci della Seton un nuovo appartamento per ospitare questa gente che viene normalmente dal sud per farsi curare a Livorno è un bel aiuto come giudica la classe dirigente della sua città Livorno della sua città di oggi lo giudiranno gli elettori non sta a me giudicare la classe politica di Livorno io chiedo a questa classe politica di Livorno di raggiungere dei compromessi perché il conflitto uccide il compromesso fa procedere sappiamo ora dell'attenzione che c'è intorno al porto sui bacini ci sono due società che vorrebbero contenderseli una addirittura ha minacciato che se perdesse andrebbe via questo non deve succedere ma sta all'autorità politiche vedere di raggiungere o far raggiungere un possibile onorevole compromesso affinché a Livorno arrivi il lavoro non vada via parliamo di singoli e del sindaco di Livorno Filippo Nogarini sembra esserci a volte tra voi un rapporto di amore e odio è così o è solo una sensazione? è solo una sensazione perché io non ho mai avuto nemmeno il più piccolo screzio con Filippo mai una cosa è il dibattito delle idee per giunta a distanza mai mi sono permesso né mi permetterò mai perché non sta a me fare nemmeno polemica con il sindaco sta a me richiamare ai doveri istituzionali un'amministrazione ma non la singola persona conosce molto bene anche Enrico Rossi andava a scuola con lui Enrico Rossi siete dello stesso paese lui si è iscritto al PC si chiamava così proprio a Cascine di Buti l'ha detto in un'intervista a Grandocato con lui ci conosciamo da sempre perché la sua mamma era vientinese la mia mamma vientinese il suo babbo di Cascine di Buti il mio padre di Cascine di Buti ci si conosce da quando si era bambini siamo vicini anche di casa 500 metri di distanza lui ha lavorato nei gruppi parrocchiali dell'azione cattolica di Cascine di Buti poi negli anni intorno ai 18-19 anni ha fatto una scelta politica insieme ad altri amici io ne feci altri di scelte più di un impegno ecclesiale ma ovviamente se andava a gira insieme la domenica se andava alle feste insieme si baziava qualche bella bimba insieme è evidente che l'amicizia è rimasta si aspettava che lasciasse quel partito in cui era da più di 40 anni allora mi aspettavo che lui facesse una proposta forte e sociale come ha fatto nel libro che ha scritto questo sì perché se ne era parlato insieme che lasciasse il partito e non mi aspettavo la spaccatura all'interno del PD credevo che litigassero ma poi tutto finisse in un accomodamento mi ha sorpreso questa spaccatura all'interno del PD un libro in cui Rossi tra l'altro elogia molto moltissimo direi Papa Francesco qual è il suo rapporto col Papa il suo di Simone Giusti? devo dire che è ottimo perché tutte le volte che vado ci incontriamo e come vedete in questa foto è uno scambio cordialissimo qui gli avevo fatto una battuta a Toscanaccia al Papa che la chiappò al volo e quindi rideva se le capisce se le capisce perché mi raccontava che il suo papà veniva spesso a Livorno e la mamma aveva conoscenza a Livorno e per cui mi raccontava storie degli anni 30 su Livorno positivi o negativi? sulla città di Allora ecco lei parla sempre praticamente in un intervento pubblico di lavoro ha voluto addirittura celebrare la messa il primo maggio giorno festa del lavoro e dei lavoratori in una chiesa in un cantiere di una chiesa vediamo anche questa foto per sensibilizzare al tema il lavoro è dignità una donna che fa quando non ha lavoro? lavora a casa ma lavora e gli dà dignità e il lavoro mette a posto tiene pulita la casa la ordina staglia tra i figli ma un uomo che non c'è il lavoro o c'è un laboratorio dove inventa qualche cosa o altrimenti va in depressione stare al bar tutto il giorno o sta senza far nulla per un uomo è deprimente lo è anche per una donna voglio dire in passato era diverso ma voglio dire che il lavoro dà dignità non si deve dare lavoro solo perché è il sostegno economico il lavoro è la dignità delle persone e per questo insisto con Rossi ma con altri amici ho insistito quando Enrico Letta era al governo che anche i profughi chiunque ma anche i cassi integrati lavorino lavori socialmente utili ma non si può tenere la gente senza far nulla in quell'occasione ha chiesto perdono per i peccati sociali nuovi peccati rispetto al cliché che magari molti nostri telespettatori conoscono tenere immobilizzate le case vuote mettere i soldi in banca e tenerli fermi lì senza fare imprese e quindi creare lavoro e poi litigare nel governo delle istituzioni è venuto fuori sui giornali che ci sono depositi giganteschi a Livorno ma questi devono essere messi a frutto ma chi deve pensare a creare le occasioni perché questi soldi sono messi a frutto e generano lavoro non certamente la curia però sta a me dire sta a me dire che un imprenditore che ha un sacco di sordi non li deve tenere in banca non deve pensare solamente ai suoi interessi ma deve pensare a un bene comune e generare lavoro però occorre all'autorità portuale all'autorità regionale all'autorità comunale creare le premesse perché un buon imprenditore investa ci guadagna ma crea lavoro e sono peccati da confessare di sicuro c'è il mio peccato solamente vedere qualche donina gnuda perché se no sembra che i peccati sono solo della sfera sessuale certo che si può essere mascarzoni anche in quella sfera dei rapporti interpersonali cosiddetti la morale sessuale ma non c'è solamente quella c'è la morale sociale che è importantissima e Papa Francesco fa notare come la morale sociale ha la stessa gravità della morale sessuale se non di più c'è l'emergenza a casa ne abbiamo in parte già parlato lei avrebbe detto meglio al limite l'esproprio che l'occupazione abusiva certo perché l'esproprio è sempre una norma di legge che va a tutelare il proprietario gli dà alcune condizioni alcune garanzie alcune provisioni e mette nella disponibilità dell'amministrazione della prefettura a tutti gli appartamenti che c'è bisogno credo che anche una misura così estrema che potrebbe sembrare così drammatica potrebbe essere una strada da studiare lei ha un ottimo rapporto con le forze sociali e sindacali ha partecipato anche a diverse manifestazioni ma che effetto le ha fatto sapere che l'unica manifestazione del primo maggio a Livorno la città la provincia più segnata dalla crisi in tutta la Toscana sicuramente era la sua era la messa ma un po' stupito io l'ho visto la mattina sul Tirreno quando ho letto che l'unica manifestazione era quella della curia della diocesi mi ero preoccupato di farla con la Cisle con le Acli col movimento cattolico lavoratori col movimento lavoratori di azione cattolica ho riunito intorno al vescovo l'espressione un po' cattolica del mondo del lavoro mi sono rimasto stupito che altri non avessero fatto altro lei si arrabbia anche con quelle istituzioni o meglio con quella burocrazia che rallenta il fare impresa questo si è una costante questo si occorre una drastica semplificazione di tutto l'apparato burocratico non si può andare avanti mi raccontava l'ammiraglio del porto 42 permessi per fare un lavoro a un porto oppure caso di Montenero Aula Mariana abbiamo trovato anche la formula per trovare un finanziamento per restaurare l'Aula Mariana che ha avuto una serie di problemi cosa diventerà quella? diventerà il complesso parrocchiale di Santa Maria in Montenero cosa ci si farà in quella sala? ci si farà tutta l'attività parrocchiale e poi ci saranno anche l'occasione per ospitare congressi convegni mille iniziative quindi troppi ostacoli burocratici è due anni che aspettiamo due anni che aspettiamo per avere la verifica di interesse culturale quando è un immobile del 1300 io ho detto alla sovrintendenza ma vincolatacelo tutto ma non si può due anni ecco che allora a questo punto capisco che manca il personale capisco tutto ma ora con noi siamo eterni la chiesa è eterna si aspetta due anni o tre un cascar mondo noi siamo si vive nei secoli ma vi potete immaginare un'impresa dato che oggi non si costruisce più nulla si fanno solo ristrutturazioni ma per avere un permesso a costruire a ristrutturare un appartamento non dico che aspetteranno due anni perché Montenero è una realtà molto complessa ma comunque sono tempi lunghi mi dicono i miei amici architetti non è accettabile tutto questo l'economia ha bisogno di velocità ha bisogno di mettere in moto mille realtà e mi hanno confessato anche questo disagio molti sindaci come per i bacini di careraggio un po' ne ha parlato per la piattaforma Europa e per l'ospedale sono opere strategiche queste secondo lei secondo la chiesa livornese è strategico il lavoro io non ho competenze per poter dire sì no io ho competenza nel dire venga il lavoro a Livorno a me mi interessa che arrivino grandi opere pubbliche che siano la grande diga forane i nuovi bacini la dazia in Europa i bacini mi interessa che arrivi il lavoro poi stanno ai politici sta il cittadino sta agli esperti in materia dire cosa fare ma sta a me dire bisogna far venire i cantiere a Livorno quindi sono occasioni i bacini i piattaforma i ospedali ho voluto fare il primo maggio in un cantiere perché ho detto che la città deve essere un cantiere dove c'è il cantiere c'è il lavoro ogni settimana lei appare in tv a parte questa lunga intervista in una trasmissione insomma realizzata dalla redazione del vostro quotidiano online molto seguita cosa le dice la gente per strada che sicuramente la riconosce anche in maniera molto più ampia rispetto a chi va solo in chiesa cose buffe vescovo lei ci si conosce bene io rimango a volte stupito perché mi sembrerebbe di incontrare quella persona per la prima volta e lui mi fa sì vescovo la vedo sempre in televisione una volta ero a benedire una famiglia un ammalato ero in televisione che sta via e mi guarda e mi fa oh come faccia il dono della bioquità il signore registrato la trasmissione senta la crisi ha portato sicuramente a nuove grandi povertà e anche a una guerra tra poveri in qualche modo sulla questione dei migranti su altre questioni come giudica la reazione che c'è stata a Livorno nella sua città di oggi mi sembrano che i livornesi si abbiano accorto gli immigrati molto bene noi abbiamo messo un gruppo di immigrati una ventina a Antignano alla villa Alma Pace e sembrava che dovessero venire fuori manifestazioni da parte della popolazione quindi ancora una città tollerante e accogliente e pare proprio di sì ce ne sono un centenale trinitari e mi sembra che nessuno li spari addosso anzi ci sono dunque gli anticorpi per reagire a questi fenomeni negativi no ma Livornese è una persona di cuore una persona buona e che occorre quando ho usato quell'espressione ci vuole più cuore ma cosa mi riferivo ha fatto discutere ha fatto discutere ma cosa mi riferivo ce lo spieghi mi riferivo a questo ci vuole più cuore perché quando ci sono 7.000 appartamenti sfitti bisogna trovare un compromesso affinché ci sia casa per tutti allora lì ci vuole cuore da parte delle amministrazioni da parte dei proprietari da parte degli inquilini da parte di tutti credo che con più buona volontà usiamo il termine buona volontà se cuore può creare alcune ambiguità perché più buona volontà per arrivare a un accordo accordi compromessi che facciano gli interessi degli edili gli interessi delle persone che hanno a casa e gli interessi dell'amministrazione molto di quello che fa oggi l'ha imparato immagino facendo il parroco in una realtà piccola quella di Cascine di Buti ci racconta questa sua esperienza aveva 40 anni non era giovanissimo quando è andato parroco lì oggi mi ringraziano a Cascine di Buti perché quando era a Cascine di Buti mi impegnai con i giovani contro l'attraversamento da parte dei tir del centro del paese dove morivano ogni anno una o due persone era stata stritolata da un camion una signora anziana e da lì nacque l'iniziativa un ponte per non essere schiacciati ovvero una piccola variante per poter distogliere il transito dei tir dal centro del paese è venuto giù il ponte sull'emissario e meno male Cascine aveva quest'altra piccola circonvaliazione e ponte altrimenti era un paese isolato certo è stata una esperienza anche molto formativa il contatto quotidiano con la gente è stata bellissima se devo dire qual è stato il periodo l'hanno anche molto rimpianta ai primi tempi che erano di Vorno c'erano gruppi interi quasi gite organizzate per seguire io gli ho voluto bene loro mi hanno voluto bene e devo dire che fare il parroco è splendido mi diceva perché uno si fa prete si fa prete per Dio e per gli uomini e trova una famiglia non una famiglia con una moglie e tre figlioli ma una famiglia con un sacco di figlioli e un sacco di persone da seguire ma l'esperienza parrocchiale è veramente bella lei è diventato vescovo nel 2007 in ottobre il 18 ottobre è stato destinato a Livorno poche settimane dopo è entrato i primi di dicembre se non ricordo male nel 2010 è morto Alberto Ablondi comunque una grande figura di vescovo a Livorno e lei mi ricordo in un'intervista ci disse è stato grande Ablondi perché ha fatto il parroco di tutta la diocese è un po' un suo modello questo fare il parroco di Livorno a Livorno quando vogliono farmi un complimento mi dicono lei sarà un'altra Ablondi ma Ablondi le faceva o si interessava dei problemi sociali lei l'ha conosciuto meglio di me forse non si interessava del porto forse non ti interessava del lavoro forse non si interessava delle questioni che riguardavano la casa lei lo sa meglio di me lo faceva ancora più di me proprio è stato chiamato il vescovo rosso proprio per l'impegno che aveva io l'ho avuto modo di conoscerlo quando era ancora vice-rettore in seminario a Pisa e anche negli anni precedenti e è un modello a cui ispirarsi sento che è ancora molto amato proprio perché ha amato la città e si è impegnato molto per essa anche proprio sui problemi sociali nella vita non si può escludere niente però è vero che le hanno proposto altre destinazioni di diocesi diciamo così più importanti più grandi comunque e lei per ora ha sempre rifiutato no no non ha rifiutato proprio nulla perché non hanno proposto proprio nulla quando io incontro il nuncio del Papa e mi chiede come va eccellenza di Livorno benissimo quindi previene questa proposta io devo dire a Livorno ci sto bene e per cui mi trovo bene mi trovo bene con la gente mi trovo bene con il mio clero mi trovo bene con tutti i miei fedeli della diocesi e vedo che tante situazioni si stanno accrescendo migliorando c'è un bel gruppo di ragazzi in seminario non c'è una parrocchia vuota senza parroco le celebrazioni l'incontro di Cisani lei lo vede ogni anno sono sempre più partecipati ma di che cosa mi devo lamentare no no ci sto bene a Livorno è stato molto legato a Camillo Ruini per tanti anni alla guida dei vescovi italiani cosa apprezzava di più di lui l'intelligenza e la duttilità era una persona che sapeva trovare in ogni situazione il compromesso giusto cercava di guidare la chiesa in quei tempi complessi come sono questi ma cercando di portarla avanti con la barra al centro dei valori e la schiena diritta di fronte a tutti i potenti dopo Ruini Bagnasco e ora cambia guida la chiesa italiana che accade? che accade? accade che dobbiamo indicare tre nomi al Papa il Papa poi sceglierà in questa terna il nuovo presidente della scena ma è vero che c'è una lotta tra virgolette uso categorie politiche conservatori e progressisti? no perché non esiste è come non esiste più destra-sinistra non esiste nemmeno questa logica all'interno della chiesa conservatori e progressisti io che sono? io che ero molto legato lo sono tuttora legato al Cardinal Ruini al Dottor Boffo direttore di Avvenire che sono conservatore per qualcuno mi dice che sono troppo innovatore non sono categorie adattabili alla chiesa si sta cercando un buon vescovo che abbia il coraggio di portare avanti con coraggio e forte innovazione la chiesa italiana così come vuole Papa Francesco e ha detto a Firenze in spirito di unità in spirito di unità Papa Francesco comunque è stato un ciclone sono giuste le sue aperture per esempio ai divorziati agli omosessuali tra l'altro su questi temi lei si è fatto promotore di tante iniziative culturali anche nella diocese di Livorno Papa Francesco non ha fatto altro che portare avanti e condurre alle sue conseguenze quanto già Giovanni Paolo II aveva detto nella Familiaris Consortium quando ero parroco tantissime coppie divorzate e risposate lo accompagnate alla piena comunione ecclesiale tramite l'indicazione di Giovanni Paolo II Papa Francesco le ha semplificate le ha amplificate le ha riempite di ulteriore misericordia ma siamo nel solco della viva tradizione della Chiesa quindi aperture giustificate ma anche giuste giuste sì perché i tempi cambiano prima i divorziati io mi ricordo da Bimbetto quando a Cascini di Buti ci fu il primo divorziato era uno scandalo un caso un caso un scandalo un caso oggi o me oggi siamo a dei numeri talmente alti che la Chiesa che è madre è già da trovare via nuove tra l'altro proprio in queste ore è cambiata un po' la normativa sul divorzio che ne pensa? ne penso che sia positiva sia positiva perché c'è un'evoluzione costante dell'istituto matrimoniale anche qui è in crisi il matrimonio ma nemmeno per idea la gente si accompagna ugualmente come prima è in crisi la formulazione del rito del matrimonio ovvero che quella burocratizzazione del matrimonio che è avvenuta con l'illuminismo e con la creazione del matrimonio in comune è finita in Francia nacque il matrimonio civile in Francia è morto ma è finita l'ufficializzazione del rito del matrimonio che poi ha contagiato anche la Chiesa i matrimoni ma prima dove si facevano? in famiglia e allora perché non ripensare a rifarli in famiglia ad esempio quando un parroco va a fare le benedizioni delle famiglie le sposa anche la gente un'idea interessante che andrebbe approfondita lei ha viaggiato molto c'è una foto che la riprende in Cina uno degli ultimi viaggi molto particolare molto suggestivo qual è il viaggio che l'ha colpita di più in generale? questo cinese mi ha colpito tanto primo perché non credevo che in Cina il cristianesimo stesse crescendo così tanto sono andato a incontrare tantissime comunità e sono rimasto veramente colpito colpito da questa vivacità del cattolicesimo del cristianesimo vedete che il cattolicesimo cinese sono rimasto colpito anche perché in Cina si lavora si lavora si lavora un po' troppo forse un po' troppo un certo sabato di festa non c'è la domenica di festa non si può altre lavorare lì siamo veramente all'assurdo mi sembra che lì sia un mix fra il capitalismo americano e una mentalità marzista e non mi è piaciuto granché questo mix i livornesi come vivono la religione? la religione benissimo infatti è rarissimo trovare a Livorno qualcuno che non sia religioso la frequenza la domenica la messa è un altro discorso la Madonna di Montenero guai chi la tocca tra l'altro per chi ci segue in diretta diciamo diciamo che tra qualche giorno lunedì c'è un'occasione particolare vi invito tutti a venire a Montenero perché è il festone della Madonna di Montenero sono 70 anni da quando Pio XII ha proclamato dopo la seconda guerra mondiale di fronte al grido d'aiuto delle popolazioni toscane chiesero tutti i toscani dice la Madonna di Montenero protegga non solo Livorno ma tutta la Toscana e i vescovi toscani chiesero al Papa questo dono che Pio XII glielo concesse ora sono 70 anni verrà Presidente della Regione tutti i vescovi della Toscana tutti voi per poter far festa in onore della nostra Madonna la settimana dopo il 22 maggio è la festa di Santa Giulia parola di Livorno lei ha cercato di rivitalizzarla era un po' diciamo passava in sordina questa festa anche con iniziative per esempio col mondo tradizionale del Remo con altre cose la processione il mondo io devo ringraziare tutte le cantine perché hanno mantenuto e stanno mantenendo in vita le più belle tradizioni livornesi e allora ho voluto accoppiare alla festa di Santa Giulia il palio il palio dell'antenna ce ne sono tanti di pali qui a Livorno e abbiamo preso quello che si poteva sposare maggiormente con l'arrivo anche delle reliquie vorrei fare di più vorrei prima di tutto far conoscere le cantine come un luogo dove si fa sport per tutti a gratis e quindi che i giovani frequentino di più le cantine e si insaldino nei valori tradizionali di Livorno valori sportivi e poi sarei contento che le cantine diventassero come per Siena una fonte di aggregazione e di crescita sociale è anche giornalista alla passione mi sembra di poter dire chiaramente per il giornalismo e la comunicazione in generale negli anni romani è nata negli anni romani in cui dovevo per forza tutti i giorni scrivere sull'osservatore romano sull'avvenire sui settimanali sui social dovevo scrivere libri e per cui ho dovuto cercare di imparare il mestiere che effetto le ha fatto aprire la porta santa nell'anno giubilare di Livorno davanti a una folla quasi da stadio che ha colpito anche noi perché era tutto intorno dove passava la processione si è creato dei problemi di ordine pubblico perché c'era troppa gente nessuno si immaginava che Livorno rispondesse così ma è stato si vede dalle foto dalle riprese che voi avete fatto molto toccante perché capite che si aprono le porte della misericordia e il primo che ha bisogno della misericordia è di Dio sono io dico se il Signore perdona me perdona tutti perché io ho avuto dei doni tocco con mano quotidianamente all'agire di Dio a me mi vengono le persone mi raccontano i miracoli le grazie che fa la Madonna di Montenero è un continuo mi è arrivato una volta un portuale a raccontarmi una storia incredibile e ha voluto poi mettere il tutto con tutti i documenti parroco di Livorno insomma in qualche modo senta velocissima la parte finale un po' più leggera se non avesse fatto il prete l'archigietto libro film o canzone a cui è legato maggiormente Battisti perché Battisti perché la canzone del sole sono le prime esperienze da ragazzotto che ti toccano così ti fanno sognare e ti aprono a un'esperienza nuova avevo 13-14 anni mi piace lo sport è vero lei ha denunciato però che lo sport produce spesso la cultura dello scarto ha cercato anche di fare qualcosa e infatti ho cercato di dar vita alla società degli scarponi e vorrei ora con le cantine dar vita a tutta una serie di sport popolari ma sto facendo sto sostenendo in ogni maniera la nascita degli oratori come c'è da Salesiani affinché da tutte le parti si possa fare uno sport per tutti a gratis dove si vede tra 5 anni e tra 20 anni mi rivedo fra 5 anni mi rivedo sempre qui a Livorno fra 20 anni un po' fra Livorno un po' a Cascine perché sarò in pensione e vorrei tornare anche un po' in campagna l'uomo di oggi ha ancora bisogno di Dio è stato messo ai margini e può vivere anche così tantissimo ma lo dice perché è vescovo o lo dice perché una volta mi trovo all'aeroporto di Pisa sto prendendo un aereo c'è Amadeus e le sue vallette dove sono finito io? fra le vallette d'Amadeus nella fila centrale tre posti erano nel mezzo e queste due vallette e ha parlato di Dio? una accanto all'altra le persone guarda lì dove è finito il vescovo e così è parlato si è parlato di Dio ma è rarissimo che non trovi una persona che non mi apre il cuore perché vedete oggi non è di moda parlare di Dio ma è nel cuore di tutti è nel cuore di tutti e se anche Tele Granducato facesse sapere di più l'agire di Dio tutte le grazie e miracoli che sta facendo tuttora il buon Dio con cui si manifesta perché il buon Dio fa i miracoli ma ce lo dice nel Vangelo affinché crediate e abbiate fede in me e cioè nella vita per sempre e un si muore davanti a noi non c'è una tomba ma c'è la vita il meglio della vita lei dice anche che l'errore più grave dell'Europa di oggi è quella di aver dimenticato le proprie radici o meglio i propri valori cristiani io sto dicendo che se fatto un errore si è messo alla base della nuova Europa il desiderio che è qualcosa di individualistico si deve mettere il bene comune in una città che ha tradizioni marziste comuniste ma è questa e mi dovreste capire il volo cioè il bene comune è il bene di tutti il desiderio riguarda il singolo prega molto un vescovo io prego non lei insomma è generale io prego i vescovi pregano molto diciamo così io ho tutti i miei tempi e sono alcune ore al giorno ovviamente sono io dico che non è un impegno è un divertimento perché sta con una persona che ami è bello una mamma sta con un figlio e si diverte e io mi diverto a pregare chi vuole ringraziare per quello che ha fatto mi padre e mi madre sono sempre nel cuore perché mi hanno insegnato la fede e mi sono ancora tuttora vicini e mi custodiscano non poco grazie a Monsignor Giusti Grazie a tutti